Novena ai Pastorelli di Fatima Quarto giorno O Pastorelli, voi che siete rimasti terrorizzati alla vista dell'inferno e così profondamente segnati dalla sofferenza del Santo Padre, insegnateci ad usare i due grandi mezzi che la Madonna vi ha indicato per salvare le anime, la consacrazione al Suo Cuore Immacolato e la comunione riparatrice dei primi cinque sabati del mese. Pregare con noi per la pace nel mondo, per il Santo Padre e per la Chiesa. Chiedete insieme con noi a Dio che ci liberi dall'inferno e che porti in cielo tutte le anime. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così intera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indure in tentazione, ma liberaci del male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.